Tra poco, Marco e Star contro le forze del male a Disney XD. A Disney XD sono in arrivo dei veri professionisti dello scherzo. Io sono Chance. Io sono Bailey. Io sono Dusty. E io mi chiamo Herman. Facciamo scappare, urlare e ridere la gente. Cosa c'è di meglio? Le vittime? Chiunque gli capiti a tiro. È il momento di mettersi all'opera. Ecco qua. Ci sono degli scherpati! 3, 2, 1... Questa è un'idea fantastica per uno scherzo. Nessuno sarà più al sicuro con... Walk the Frank, scherzi in giro. La nuova serie, dal 26 giugno alle 18.55 a Disney XD. È stato uno scherzo fortissimo! Star Wars compie il suo scherzo. Sui primi 40 anni. Vieni alla sua festa stellare? Sky Cinema dedica un canale con tutti i sette film della saga. Da venerdì 9, Sky Cinema Star Wars. Ecco a voi la top 5 dei momenti più imperdibili dei nuovi episodi di 11 e 11 campioni. Al quinto posto, quando Vitto scopre la vera identità di Florenzi. Ui! È Franco Pelosi? Al quarto posto, il chiarimento tra Rafa e suo padre. Pensavo che essere esigente ti avrebbe stimolato a fare sempre meglio. L'unica cosa che ho fatto è rendere tutto più difficile. Al terzo posto, il gol subito in modo sospetto da Ezequiel. Goal! Megliato! Me l'ho detto che avrebbe funzionato. Al secondo posto, l'infortunio di Gabo. Sta tranquillo, Gabo. E al primo posto, il gol di Lorenzo nella partita contro i Fulmini. Ed ecco il calcio d'angolo del numero 10, Gabo Moretti. Tiro di Lorenzo! Goal! I nuovi episodi di 11 e 11 campioni. Dal lunedì al venerdì alle 19 e 20 a Disney's D. Adesso, Marco e Star contro le forze del male a Disney's D. Ogni cosa intorno a me si riempie di magia. Sono speciale. Vengo da volta lontano.